buongiorno boys eroe delle tre guerre ben ritrovati bentornati sul canale un'altra puntata con age of imperialism che diciamocelo sta diventando velocemente la mia modo preferita velocemente eventi interessanti vittoria che mi fanno mi danno scarica di endorfine mi fanno stare meglio all'endorfina poi quella che ti da ti fa pagare non so fatto stacchi piano piano stiamo un tac 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 un tassello dopo l'altro stiamo situando le situe e avere i francesi contro a me frega anche cazzo perché mi piace picchiare i francesi ci sta è l'unico punto dove stiamo un pochino facendo cagare e le nostre riserve di equipaggiamento che però si stanno andando a risolvere ora mentre parliamo denota tra l'altro questo meno 39 sono morti di attrito stando fermi in un punto perché non li ho mai fatti muovere se non quando li ho portati lì non so problemi mentali anche lì ma tante vedo che difettiamo anche di naval bomber in cui close air stiamo arrivando il problema qua il problema qua che andiamo a fixare immediatamente è il non avere la gomma ma la gomma adesso che le fabbriche sono tornate torna sul menu guardate lì a giusto non avevo neanche finito l'altra volta di situare il sito e gli imperiali hanno vinto la guerra civile cinese rimane un'area di nostro interesse per un bel po di tempo ora e secondo tutti i rapporti che sono arrivati è ufficialmente finita grazie c'ero io foto leggere io con l'imper le forze imperiali che hanno ottenuto una vittoria totale notizie di questo tipo rimangono ovviamente positive visto che gli imperiali erano la nostra quello che quelli che stavano supportando noi e ora loro saranno si spera e eager in italiano si traduce con avranno di fretta voglia sono una prova di merda però vabbè saranno vorranno ripagare presto i loro debiti verso verso di noi in tutti gli altri casi in any other case the future of our friend may end in raider drastic event ecco sì nel caso non lo facessero può darsi che noi ci voltiamo dall'altra parte e sono cazzi loro vediamo cosa fanno 100 political power non serve un assolutamente destability bravi 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 vedete adesso rispettate i vostri patti che noi rispettiamo i nostri secondo me lo dico stupidità fa più comodo a noi capra un altro fronte nel suyutski che adesso vedi che gioia nel suyutski e io cosa faccio mi sparo nel cazzo perché che porca troia eppure la spagna entra di lì e se lo mette nel culo grandissimo buono ora le truppe dovrebbero tornare e quello che mi concentrerò io l'effettivo è iniziare a sfornare delle divisioni decenti per proteggere tutta la faccenda iniziamo piano piano ma niente di meno iniziamo tra l'altro oltre che iniziare editerò le divisioni dei legionari e inizierò a disporre almeno una decina di divisioni di legionari per andare a fare le guerre qui nella situa la domanda è queste divisioni legionari le faccio di wheat 20 o 21 oppure seguo un altro forse 18 per i posti vediamo il deserto il deserto che wheat ha desert combat wheat 90 e segue la stessa cosa dei plains no allora plains è 90 il deserto è uguale alla cosa quindi va bene i multipli che sta dentro 90 cioè in verità andrebbe bene un 45 due divisioni due divisioni di legionari da 45 questi muoiono subito oh ok mi è venuto un attacco di cuore pensavo fossi i cinesi invece inghilterra e giappone la storia di due imperi di amicizia disturbing sì è abbastanza brutta come come notizia per noi perché vuol dire che sono amici fino alla fine qui però non mi ha dato adesso arrivano le due quella ci vediamo vediamo se mi da davvero 10 civili io qua godo tantissimo devo decidere adesso cosa fare con le legionari però li voglio mettere in africa che combattano nelle nostre colonie oh finalmente è arrivato il momento l'era della bella economia dove si fa la pacchia il panico del 1931 ha colpito l'italia meno di altre nazioni anche se è stato comunque un brutto colpo ora però con le dovute riforme che sono entrate finalmente in circolo nell'economia questa si è ripresa e ha eliminato gli effetti del panico che andremo a togliere così vaffanculo ma tralasciando quello che adesso è un momento di relativa pace quieta dove nessuno si spara addosso eccetera eccetera chissà dove potremo andare perché una volta tutto quello si può ripartire con le colonie che è una figata si potrebbe andare avanti con tutta sta faccenda qui in mezzo o questo devo farlo questo lo faccio subito perché mi da un altro search slot che mi serve tantissimo quello search slot lì e poi si stiamo perdendo senza e poi ci potrebbero essere le riforme italiane qua in fondo si arriva a quella cazzata qua dove c'è comunque da un sacco di l'italia ha un sacco di popolazioni in sta modo è assurdo anche questo non è l'unico l'unico buff del 15 per cento popolazione ne ho visti anche altri 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 cioè quella roba qua ci da ci fa diventare tipo a russia a un certo punto dovrò assumere nuovi generali se voglio stare dietro a tutta sta cazzo di faccenda qua della della situa veramente una quantità di popolazione spaventosa abbiamo trovato come conigli noi italiani invece vorrei stare dietro un po tutto qua perché l'italia infine ha un'ottima marina e noi dobbiamo dargli anche un'ottima aviazione create la divisione nembo guarda qua a te ah sono i paragalutisti quella lì migliori 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 naval bombing più 15 anche questo the doom from the sky è detto c'ha dei buff allucinanti sarà saranno così anche le altre nazioni impossibile sono l'italia rotta comunque tutte decisioni belle tutte decisioni interessanti mai una decisione forse qualcuno ma pochissime decisioni del più un building slot più tre che cazzo ne so tre radar o quello che è che comunque non fanno schifo i radar in effetti mi saranno pure quelli comunque è bello vedere i francesi che muoiono di fame sulle montagne all'effettivo io qua ecco c'è da andare a puntare l'idea degli legionari purtroppo perché essendo truppe speciali e noi avendo così tante divisioni di alpini sapete già dov'è che si va a parare dove che si va a finire intanto ogni tanto ci sono questi eventi ecco che fanno fanno perdere un po di stability però subito dopo arrivano questi eventi che fanno aumentare la situa hanno trovato il mostro di Loch Ness cos'è che hanno visto dei so what george spicer e sua moglie ieri hanno visto la creatura più straordinaria attraversando la strada davanti alla loro macchina hanno descritto la creatura come un grosso corpo di un metro e mezzo di un'altezza di otto metri lunga che aveva anche collo molto lungo e situato un po più spesso di quelli della proboscita di un elefante alto 3 4 metri eccetera eccetera così l'hanno visto meme totale comunque per potenziare le nostre divisioni di noi adesso non possiamo toccarle né loro sono così e siamo nella merda per fare quelle che volevo fare io ci serve che già mi sto mi sto propinando a farlo propinando non credo sia proprio il termine giusto appena possiamo andiamo per la quantiti che ci dà le special force multiplayer capacity e continuiamo così fino a quando non arriviamo all'ultimo e che dovrebbe darci la possibilità di switchare qualche divisione se non riusciremo a di switcharle tutte c'è da cancellarne qualcuna ma ci siamo capiti andiamo subito con questo perché a noi serve di educare il baggio per educazione in italia così piccolo che non può essere trattato neanche come un brutto scherzo la situazione deve migliorare il primo possibile perché il mondo si sta muovendo avanti davanti ai nostri occhi ci sta lasciando indietro puttana merda no 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 educhiamo questi ragazzi piccolo taglietto mi ci infilo abbiamo sbloccato le decisioni per i focus annuali vuol dire che una volta all'anno possiamo prendere uno di questi focus che ci busta cioè noi ci concentriamo come governo a bustare l'economia civile l'economia militare la propaganda sono tutte figate io ho messo l'industria militare perché semplicemente c'erano più robe eccetera eccetera mi interessa il factory output e il production efficiency growth del 5 per cento qui possiamo anche pagare dindini per aumentare ancora un research lot 125 ma è assurdo cazzo poi qui io sto pagando per con 2% di consumer goods per avere una civile off map che anche quella è una bomba ma le decisioni sono veramente ficche guarda qua che bello anche qui 100 io gli li butto vai così vaffanculo guarda te che situa abbiamo un altro slot tricea abbia un'altra madonna mia madonna mia ma è op è op a sfac quella cosa qua porca vacca porca vacca it's verify come situa anche qui le ricerche bisogna situare anche se sono un po in anticipo che figata ragazzi a bomba ste decisioni vero ma cos'è mi hai già cagato fuori un'unità sono arrivate le prime divisioni che abbiamo noi di come cazzo si chiamava queste qua che avevo chiamate divisione di granatoggi invece di esseri con i granatieri a bomba questa è totalmente a livello più assoluto una mossa incomprensibile cioè hitler ha gioinato il commonwealth of nation hitler hitler con gli inglesi what what the fuck giochi politici tra le nazioni europee hanno portato infatti a degli eventi abbastanza interessanti esotici se possiamo chiamarli in questa maniera la conclusione dell'alleanza tra la gran bretagna e l'austria senza dubbio appartiene a questi eventi esotici che possono essere strani per l'osservatore medio comunque deve essere ricordato che l'austria che sta ricostruendo il suo potere da un bel po di tempo è in conflitto con tutti coloro che ha vicino che vogliono estendere la loro sfera l'influenza nella regione del danubio non è non è vero non è vero non è vero io non sto rompendo il cazzo a nessuno e invece qui è quello che vabbè buon per loro polish imperial dreams invece quando la polonia ha preso l'indipendenza della russia nel 31 molti esperti in tutto il mondo hanno avuto varie visioni delle ambizioni di questo piccolo impero tra l'austria la germania e più importante la russia oggi la conferenza del governo polacco sembra mandare via tutti questi dubbi che erano cresciuti al periodo perché secondo i rapporti il l'obiettivo polacco era di spezzare i cattivi imperi che sarebbero quello russo e liberare le gente dell'est europa dalla loro tirannia la loro ambizione dei polacchi e quindi bla 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 referenti delle serie quindi western russia was today whether not dolly qual è qual è il punto a parte il fatto che abbiamo un cancro del com wealth of nation qui vicino sono diventati in aria piluzky il sud ski piluzky joseph comunque il cazzo stragrosso non caccio al mare la polaga bellina la situazione bono e ora io da chi cazzo mi devo difendere dagli inglesi dai francesi o da me stesso comunque assurdo fide assurdo aveva più senso che in tre facesse un'alleanza con i polacchi e farà crescere tipo un terzo polo lì in mezzo veramente assurdo veramente assurdo tra l'altro siamo pure abbastanza simpatici vuoi mica che i russi alla fine non lo so non so come andrà a finire sta facendo qua non so come sta sta crescendo noi ragazzi stiamo andando avanti a sprombattuto cioè voi non vi immaginate cacchiamo fuori truppe a una velocità assurda siamo arrivati vi faccio vedere tecnologie abbiamo gli aeree stiamo andando per le armi e per i motori quelli un pochino più fighi qui siamo arrivati già al mab perché ho preso le ricerche avanti di qualche anno quindi siamo belli a posto sto iniziando a sfornare i fiat ma forse un pochino indietro su questo reparto qua dei cannoni ma non è quello neanche il punto a un certo punto vi ho messo anche il focus che questa roba qua ci costa 18 giorni in 18 giorni lì che è fuori appena mi ci metto a fare un paio di ricerche vedete che fa bomba tra l'altro questo qua sarò più di 100 factories cosa che io comunque adesso mi ci sto un attimino 60 dovremmo avere già più di 100 non manca tanto se non abbiamo perché qui ne abbiamo 44 dovremmo già avere più di 100 forse però alcune arrivano dai commerci no io non so se le conta quelle lì comunque piano piano ci stiamo evolvendo più silo per il carburante poi un po di forti qui sotto perché come notate abbiamo cacatto fuori radar e antiaerea ovunque ma mancano i forti questa qua deve essere una fortezza non deve entrare nessuno eccetera eccetera insomma sta andando tutto da dio io ho paura che e qui col minera davvero come la prima guerra mondiale tutti ammassano questi eserciti qui e poi a fine ci si ammazza però non con la tecnologia della prima guerra ma con la tecnologia della seconda quindi sarà ancora proprio più bloodshed totale è arrivato anche uno dei primi dei nostri treni che adesso arriverà anche il secondo e lo mettiamo dall'altra parte e poi dopo a messe diamo in mano le meccanizzate e anche lui farà il sito che deve fare peccato per desert fox imparerai presto a combattere anche da altre parti messe te lo dico io porca puttana ragazzi porca puttana che che figata quel focus qua io ho visto detto vabbè lo faccio lo faccio niente ci ha fatto è esponata la legione cioè non è servito farli li ha fatti in automatico il gioco ed è una figata in più adesso quel focus qua che arriva dopo per prima dobbiamo finire questo qua ci dà più 35 per cento di special forces multiplier che penso vada a fixare questo cioè da un lato mi dà il cazzo perché questo mi fotte ancora di più la 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 special cioè non posso girare i gli alpini ma dall'altro ho cinque divisioni con un template decente cioè in verità è strastrano 28 i template con tre artiglierie e un anti tank della madonna cioè questi perforano e più già full attrezzatene con con tutto quello che gli serve tra virgolette certo forse un po di antiera non sarebbe stato male ma ci peseranno gli aerei per antiera e queste sono cinque divisioni belle fatte gnecche così che devo dare in mano a qualcuno che ne sa qualche cazzo di cosa e chi le diamo marco arisio che c'ha il non special special forces attack più cinque per cento è lui è lui l'uomo è lui l'uomo anche questo non è male però è quello l'uomo delle special forces mi sa ah no c'è anche gambara è vero cazzarola che lui tra l'altro a gambara le diamo gambara tu hai la nostra divisione forse speciale qualcuno qualcuno gli dà qualche bonus magari abbiamo esperti di camoflaggio division attacco a un core territory hanno migliorato questo guerrilla fighter però non che ha senso non è che i guerriglieri abbiano più difesa attacco su core territory in un certo senso ragazzi questi cinque qua non che ci servissero in questo punto ma sono molto benvenuti benvenute molto benvenute cazzo allora tu finisci diretto madaga nel nord africa sotto il comando di bono e gg una figata della madonna abbiamo lì una figata veramente non posso ancora migliorare però gli alpini questo è un po un dito nel culo devo essere totalmente onesto però benvenga tutta la situazione lì della cosa il nostro secondo cannone glielo andiamo a dare a quell'altro e via a questo punto allora io non voglio mollare l'albania però non so del momento come si metterà lì la situation dell'albania per adesso dico alle nuove truppe appena arrivate di andare a fare giro giro tondo qua in albania e fine e proteggerla così e mettiamo lì queste qui nuove vacca puttana o figata con la roba lì adesso arriva anche quest'altra figata qua e poi arriva ancora quella figata più grosso di sotto intanto io ho tornato poi ho preso questa cioè guardate che buff della madonna civili all'intelligence 10 armi vabbè tutto 10 più 3 operative e più 0 2 di country intelligence cioè noi li cagliamo fuori va un altro idolo arrivato fra di noi se perdo sta guerra qua sto gioco vuol dire e vuol dire che non mi aspettavo che forse è un pochino più complicata il previsto però a verità mi sembra di stare a viaggiare proprio da dio da dio e non dimentichiamoci di continuare a fare le ricerche della situa la bretagna stand stall il panico del 31 è stato superato anche dagli inglesi buono buono buon per loro e poi avete i vostri nuovi amici col baffettino un pochino e vedete l'unica la romania che deve decidere che caccia fare della sua vita adesso qui e e e la svizzera che speriamo rimanga neutrale belgio e olanda vengono un po snobbati vediamo un attimo chi c'è in olanda a wilhelmina è chiaro belgio alberto primo quindi tecnicamente sono sotto il reich entrano secondo me tutti e due guardano un non al reich a la situa del parca puttana mi sono indicato il nome la reichs pact si dal patto allora andiamo subito a spiazzarglielo questo qua special force lo special force che tra l'altro ti dà anche recovery gli da supplication champion in meno ci dà ricerche a tutti guarda qua qua in vista di outnumerare i nostri nemici dobbiamo avere un vantaggio qualitativo ah no siccome i nostri nemici hanno più soldati noi dobbiamo avere una qualità migliore ma a fine di che con 4 milioni così 5 di me power non so se hanno questo però forse sì magari cagano fuori più divisioni non lo so però visto la germania mettere tutte le truppe lì su confina adesso disegno io un bel un bel setup per le nostre meccanizzate vedete voi come andiamo via belli schisci oh puttana vacca salta fuori che c'è davvero hanno fatto la foto al mostro di locale sto giro è stato robert kenneth wilson la foto è considerata una prova dell'esistenza del mostro anche se gli sciatici lo sembrano ancora convinti mi sono appena arrivate notizie che dalla cina è ripartita la produzione di armi come succede domani e poi arriva anche questo evento il mondiale il campionato mondiale è iniziato nel nostro paese c'è pieno di gente da tutto il mondo che è arrivato per tifare le proprie squadre di calcio questo evento è una grande opportunità per far vedere alla gente d'italia from the sadly good side lord ugly patch ah sì ovviamente per farci vedere belli e annebbiare un po le brutte cose che sono successe durante la crisi all'inizio di questa decade ma non è più un problema chi se ne frega tutta l'italia sta rigioendo per il nostro per la nostra squadra di calcio che vinca avanti andiamo ragazzi i 400 political power 10 per cento di stability e l'evento di calcio world cup del 34 e nel 32 ovviamente c'è detto che lo ospitavamo ma nel 34 la giochiamo quando il mondo è cresciato nel 31 cultural e sport eventi sportivi e culturali come la coppa del mondo sono stati messi un attimino in questione dovremmo comunque andare avanti per fortuna grazie alla generosità della monarchia italiana e di un bis secondo l'evento ha potuto prendere luogo avere luogo e per le prossime settimane gli occhi dei fan sono tutti puntati su quello che sta succedendo in italia grandi persone sono arrivate il team nello stadio eccetera eccetera speriamo di vincere ragazzi porca putate speriamo che qualcuno mi dia le concessioni che mi aveva dato perché i tedeschi hanno le concessioni gli italiani non hanno le concessioni mi va bene anche da queste parti Shanghai italiano ci sta un cifro direi allora ragazzi arriviamo a fine puntata abbiamo fullato tutte le nostre dottrine se volete darci un occhio le conoscete bene se no guardate questo brilliant strategy inflexible entrenchment più ingegneri logistic che consumano di meno possibilità di prendere manovre con ordination ricerca dei moduli eccetera eccetera inferiore più positioning aerodotrina ridotta incidenti ridotti più efficiency della situa e gg ora qua anche stiamo incoraggiando il militarismo per andare un pochino avanti così prendiamo un'altra civillian gratuita con i punti che abbiamo in verità potremmo anche per spediamo pure 200 per aumentare ancora la velocità delle ricerche servono 100 civili ecco perché non ci eravamo arrivati prima stiamo comprando support equipment ma già che ci siamo prendiamo anche qualche tracks già che ci siamo e poi ragazzi andiamo per rafforzare la cooperazione militare per dominare il mondo a quanto pare ora siamo andati per dominare il mondo la germania è conosciuta in tutto il mondo per essere maestri della guerra e con il loro aiuto domineremo l'europa e anche di più cerchiamo di migliorare le relazioni con loro per prendere tutti i vantaggi della situazione e rendere forte la nostra amata quella più forte del rice pact questo ci dà tutti quei bonus là sotto che non sono neanche un greco che però comunque sia mi viene comodo il land of train costa ridotto e anche il resto perché ancora mi mancava e quindi andiamo andiamo a situarli subito è un buff che mi dà immediatamente secondo voi german supervising development of army penso sia proprio questo yes legioni moderne oddio voi non vi immaginate poi adesso possiamo cacare fuori un sacco di alpini un sacco di sito se gli altri paesi ho fatto il nuovo modello di aereo in prove d'airframe adesso è arrivato adesso andremo a sistemare anche i castle l'importante prima è dominarli questi cieli del cazzo e insomma tutto sta arrivando al culmine io non so come culmine era questa cosa ma probabilmente c'era un sacco di gente morta va bene signori un saluto alla prossima puntata vedremo quello che succederà succederà noi siamo praticamente pronti